Ok, ah, sta era già partita che qui sarà un pallato come al solito Ok, comunque qui ragazzi siamo su Agario, ora faremo una partita Ora mi voglio impegnare, voglio fare, voglio vedere se riesco a migliorarmi Anche se tutto dipende dalla fortuna, vabbè, fortuna, culo, però Vediamo se riesco a fare una bella palla anch'io Non dico mettermi in classifica perché, cioè, chiederei troppo, però me lo proviamo, dai Ma dire mai Eh, ma dire mai, giustamente, vediamo Dai, su, però Che cazzo? Ma no, no, non mi hanno neanche fatto iniziare, ma che cazzo è? Subito, cioè, non ho neanche visto la pallina in gioco e subito Cioè, vabbè Vabbè Dai Sto computer che continua a laggare, cazzo Non posso, non posso, non posso sopportare più Eh, botte, botte Botte e violenza Ok Dai Non laggare, ti prego Ora che proprio mi ero messo, non voglio mettere di impegno Non laggare più del solito, ti prego Ragazzi, è fuoco Ragazzi, secondo voi posso giocare, cioè, con, così in questo stato? Cioè, ditemi voi perché, guardate ragazzi, non, cioè, guardate, cioè, ditemi voi se, se questo, se questo si chiama, da moglie, fuoco Io non vedo un cazzo, qui mi lagga, ora, ho perso un'altra volta, vaffanculo Eeeh, vabbè Eeeh, sexy lady Facciamo un altro, qualche cos'altro Che gioco si può fare, Emily? Consigliaci un gioco, consigliamo un gioco da poter Stai parlando con moi? Sì, sto parlando con te Come non lo sai? Che gioco possiamo fare, ragazzi? Ah, comunque, ecco, approfitto ora per dirvi Comunque, se, perché noi, siccome siamo, cioè, non ci viene in mente i giochi, molto, spesso e volentieri, ci abbiamo un computer molto lento Perché non c'è niente, mi brutta il naso Questa te la potevi risparmiare, comunque, vabbè No, tutti devono sapere che mi brutta il naso No, ecco E comunque, dicevo, eh, non sappiamo, diciamo, magari se avete i giochi da consigliarci, o anche Io che non sappiamo, stavo dicendo È che io, lui non lo so No Ma io Si mi fai parlare con me Vai, vai Non ci sono mai stata a cazzeggiare sul computer Io ho sempre cazzeggiato questo bellissimo sito che si chiama WeHeartIt E quindi non Ah, questo lo conoscono tutti Non so Non so i giochi perché io non E lei non sa niente Io sono un angioletto e non conosco queste cose Ti do uno schiaffo e ti faccio diventare un murales Eeeh, un murales Te, con questi murales, ci sei troppo fissata Vabbè, comunque Stiamo degenerando Sì, anche troppo Vediamo un po' Questo video è già caduto nel trash, piccolo Sì In un certo senso Le foto, la gente non si fa più le foto col cellulare Se le fa direttamente con l'iPad Ah, ora è passato un'altra moda Abbiamo cambiato Vabbè Vediamo un po' Visto che questo gioco possiamo fare Uno che vada di moda Perché se no Ma io quelli non li concepisco quei giochi Sono giochi da... Si incazza Tu non lo vuole fare perché sa che si incazza e poi gli fa sclerare di brutto No, ecco, quel gioco... Come si chiama, ragazzi, quel gioco Quello lì che ho detto anche a lei che c'è Perché praticamente c'è tipo un muro No, no, aspetta Sentite la sua descrizione del gioco Vai, vai Praticamente, allora, questo gioco è uno schema Dentro ci sono... Va bene, se riuscite a capire quello che lui intende Di demattoncini Siamo tutti demattoncini attaccati E praticamente Vabbè, io ho anche io, diciamo, che io Mi impaffino C'ho un mattoncino Cioè, una pallina tipo Flipper Tipo... Che praticamente devo... Devo colpire questi... Questo muretto Questo muro devo colpire praticamente Cioè, questo muretto formato da questi piccoli pezzettini di... Cioè, questi piccoli mattoncini Che praticamente a poco a poco devo buttare giù E la pallina, insomma, non deve cadere nel vuoto Se no, praticamente, perdo E praticamente Ogni... Ogni partita c'ho tre vite Tre vite, insomma, posso... Cioè, non... Posso morire tre volte, ecco Però non so come... Non mi viene Vabbè, facciamo provare a fare... Però un pimpone non ci sono più allenato Posso fare Questo ovviamente non mi aiuta Pensa a cazzeggiare Che cazzi suave Non lo so Ho detto che non è riconosco il gioco Ma non... Ora, ovviamente non ci viene a mettere Proviamo a Chinator, dai Sennò... Se no, tanto Se faccio un gioco magari... Se lo fa qualcuno famoso Uno ritrove famoso Venguardato Se lo faccio io magari, vabbè Giustamente E poi alla fine, cioè Non è che... Mi sembra normale la cosa No, ma poi la cosa bellissima è che vengono lì a dirti che le copiano Sì, eh, capito Hanno anche le palle, insomma Io so, sono me stesso Quindi nessuno può dire che... Cioè, essendo se stessi Io ho il mio stile anche di fare video, insomma Quindi, come vedete Io non sto imitando nessuno Ma sono semplicemente me stesso, ecco Quindi Non è che potete rimanere a dire che sto imitando Che... Qui, allora Vediamo un po' che si può Un po' Facciamo un gioco del famoso Magari che mi piace anche a me Oppure... Magari, ecco Scegliamolo insieme Uno youtuber Uno youtuber eppure, non so Favij Personaggio famoso Tipo... Favij Facciamo Favij Su, se no È da oggi pomeriggio che me lo rammenta Tutte le volte che... Che si cerca di fare un video su Alfinator Subito Che me lo rammenta Ah beh, facciamolo, almeno Poi toccatorò per forza qualcun altro Che Favij si è già fatto Ecco Chi sarà il più discorso di oggi? Justin Bieber Eh, eh Il più discorso di oggi? Justin Bieber Allora Passiamo, via Meglio che non con me Passiamo Al gioco Ok Speriamo in bene, ovviamente Perché qui si blocca sempre, ragazzi Io non sono riuscito a fare un video Proprio Dakinator Un video proprio come vorrei Non sono riuscito a farlo Perché Per una cosa, per un'altra Vabbè Mettiamo 18 Quanto qui L'età Capisco perché chieda sempre l'età In che senso Vabbè Uno se le può commettere anche Vabbè Dettagli Dai Passiamo al gioco Se mi ci fa passare perché E ancora ci mancava le pubblicità Ovviamente Ovvio Pubblicità non mancano mai A scassare Non mi Non mi addentro di più perché Sennò Ok Sto personaggio è italiano Sì Ecco Ecco Si incomincia subito Si incomincia subito Parte subito Con il bloccarsi No Mamma mia Che paura Pensavo D'avrei chiuso tutto Quando si blocca Qui non si capisce bene Dai Su Prendi 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 sto Prendi sì Detto di sì L'italia Dai Peccato che non ci sia la musichetta Che si metta anche la musica Ho sbagliato Sto personaggio a più di 26 anni Ho messo sì Vaffanculo Ha inciso dei dischi No Sto aspettate Il suo personaggio è padre No Assolutamente no Il personaggio è una donna No Concordi? Che ne sai Che è una pari genere Una donna Il suo personaggio è diventato famoso Grazie a youtube Sì No Come no 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 Sì Sto prendendo Ah no Lo so Lo so Il personaggio è di Roma No Un'amica di Roma Magari No Secondo te stava ancora No è di Torino Ha fatto Il personaggio ha a che fare con il mondo dei giochi Sì Voglia Il suo personaggio fa parte di un duo No Sempre fatto Favij and Favij Dai Il suo personaggio è mai stata a Los Angeles No Sì Sì Allora mettiamo sì Se si muovesse però Dai E non to' tempo da upsetati tra 5 minuti Ci sono agli e siamo a 10 minuti per rotti dai Un po' si arriva a 15 minuti se non mi Mi si blocca qui Non posso caricarlo Dai Oh Sarà stronzo Ragazzi anche in l'altro video quando Quando ho bloccato il tempo subito E' ripartita la canzone C'era veramente stronzo Sto compiuto Quale cosa apposta Guardate Cioè rimane impallato Proprio Bloccato Mi chiede mi sento Voi se è normale Perché Se è normale Non c'è verso di fare un video su Hockey Network Minchia Musclera Minchia Oh Siamo a 11 minuti dai Oh non va eh A un certo punto si blocca Cioè Si blocca così Così per bellezza Per 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 Ah di di no Che cazzo devo fare Tanto mai Dai Passa alla prossima domanda Non ti blocca Non ti blocca Minchia Ci rinuncio ragazzi Mi dispiace ma Non c'è verso Non c'è verso Non c'è verso Di fare un video su Hockey Network Non c'è verso Guarda 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 Sto indoccato No io mi tocca antirrompere ragazzi Se no Siamo a 12 minuti Erolti e faccio Quanto qui mi sa che Sarei bloccato un'altra volta Niente Via Eh ragazzi Vi saluto Spero che questo video sia stato di vostro gradimento Alla fine vabbè E' un video misto Via Se così si può definire Qui si è bloccato definitivamente Niente Io vi saluto E Ci vediamo al prossimo video